salve a tutti benvenuti e bentornati nel mio canale oggi parliamo di una sindrome pochissimo conosciuto la sindrome di gigola cos'è e può far sorridere ma non fa sorridere a chi succede la perdita di urine proprio con la risata ci sono delle condizioni in cui anche il giovane l'adolescente durante la risata a una perdita urinaria involontaria potete capire altamente imbarazzante socialmente e che può isolare la persona proprio da un contesto sociale per il grosso imbarazzo che può avvenire e si è studiata non tantissimo cercato di vedere un po la letteratura trovato 55 lavori che hanno approfondito questo argomento descritto per la prima volta nel 1959 sindrome di gigola quindi perdita di urina con la risata legata quindi non confondiamola con la perdita di urina della donna di età più avanzata che magari ha partorito meno pausa in cui il tono della pavimento pelvico della muscolatura perineale sia un po indebolito viene una discesa della vescica dal cosiddetto cistocele lo sfintele esterno ha meno competenze e quindi durante il corpo di tosse la trasmissione della pressione addominale fa induce una forzatura della vescica che non avendo la capacità di contenere essendo lo sfintele al di sotto del controllo della muscolatura pelvica sia la perdita urinaria questa incontinenza da sforzo tipica specie nella donna di una medità intermedia o nell'uomo che ha subito interventi per la prostata o chiaramente patologie e dismetaboliche o neurologiche riducono la competenza dello sfintele qui parliamo di un incontinenza nel giovane dove il pavimento pelvico si dà per scontato che sia in piena efficienza non è quindi di facile identificare la sua origine si è parlato in effetti di problemi neurologici una forma di catapressia un meccanismo riflesso che si scatena con la risata e che crea questa contrazione vescicale incontenibile tant'è vero che in questo caso le terapie sembrano essere quelle di tipo anticolinergico cioè cerchiamo di contenere l'iperattività della vescica che chiaramente deve essere studiata innanzitutto con un esame urodinamico una seconda ipotesi e qui chiaramente ci riaffaccia un po quello che ho detto un po prima ci può essere qualche giovane qualche giovane donna specialmente che ha un po di debolezza del pavimento pelvico allora in questo caso sposteremo la sindrome di gigol quasi in un incontinenza da sforzo in questo caso comunque sempre l'esame urodinamico ci darà una valutazione utile anche una valutazione del tono del pavimento pelvico da parte dell'urologo dell'urodinamista dell'osteopata che si occupa proprio di riabilitazione del pavimento pelvico qui talvolta terapie di rinforzo della muscolatura pelvica possono creare un rinforzamento anche della rosso intera e quindi una risoluzione o contenimento del problema sindrome di gigolo almeno adesso sappiamo cos'è se lo troviamo scritto spero che non debba così entrare nelle famiglie di nessuno di noi perché sono problemi che specialmente in un giovane possono creare grosse problematiche poi di relazioni e sociali con questo vi saluto vi auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video ciao